ce lo ha chiesto ogni settimana c'è questo appuntamento ogni 15 giorni per il momento poi vedremo perché poi spero ogni 15 giorni noi parliamo in dialetto dialetto comasco ovviamente ci affidiamo a chi ne sa ovviamente a un'esperta è un'amica di Ciao Como si chiama Ornella Favini è collegata con noi via Skype ed è la famiglia comasca e Clara Ornella buongiorno buongiorno a tutti voi buongiorno a lei signora Ornella grazie grazie di essere con noi grandissimo successo la volta scorsa a grande richiesta ma soprattutto ecco noi ricordiamo subito agli amici e alle amiche che ci ascoltano che ci possono mandare anche poesie lettere giusto Ornella giustissimo allora chi vuole ci come associazione alla famiglia comasca può scrivere una mail mandandoci poesie racconti anche se non in dialetto anche in italiano aneddoti dei tempi eccetera del nostro territorio allora do l'indirizzo mail che è famiglia comasca tutto attaccato chiocciolavirgilio.it grazie che mi hai dato della signora eh perché ecco l'hai detto signora Ornella signora Ornella noi siamo orgogliosi possiamo chiamarti anche zia volendo zia usiamo lo slang giovanile ciao zia ciao zia sono nonna però no vabbè però nonna sprint per bacco nonna sprint ma sì dai va bene va benissimo così va bene allora e come si dice no signora in dialetto shura 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 giusto lo sapevo anch'io questo shura 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 esattamente allora tanti che ci stanno guardando in questo momento cara Ornella ti salutano e che ti vogliono veramente tanto tanto bene Agnese Dario ciao carissimo Dario buongiorno lui dalla Germania poi Ilaria ci saluta anche Lidia buongiorno e poi Lorenza famiglia comasca chiocciolavirgilio.it buongiorno ha messo anche il sito della famiglia comasca bene Lorenza ormai è la nostra assistente quindi allora se qualcuno ha qualche ulteriore curiosità giusto Ornella anche una poesia qualche aneddoto modi di dire te lo scrive lì alla famiglia comasca ecco una precisazione invito a guardare la pagina facebook della famiglia comasca che però è la famiglia comasca perché non solo famiglia comasca perché famiglia comasca era il vecchio la vecchia pagina facebook che è stata dovuta bloccare quindi che abbiamo bloccato è stata una nuova quindi è la famiglia comasca è Lorenza quindi assistente numero uno la famiglia comasca bene buongiorno salutiamo Sandra salutiamo anche la nostra amica Franceschina Francesca ciao Francesca buongiorno e Clara carissima Ornella ti saluta dice sei ricevuto la sua poesia e poi saluta il sottoscritto la signora Clara io la ringrazio ringrazio anche dell'affetto l'ho ricevuta grazie insieme ad altri a quella di Domenico a quella di Carla a quella di Tantori abbiamo ricevuto tanta roba mamma mia che bella sta cosa sta diventando un lavoro senti la nostra amica di origine credo polacche ma ormai trasferita qui si chiama Agnese dice buon di sciura Ornella quindi questo è doppiamente apprezzabile perché lei è anche straniera ciao Ornella dalla nostra Angela con tanti bacini un saluto da Simona un saluto anche da Francesca dai allora adesso vai avanti un attimo perché sennò tu a furia di salutarti la gente allora volevo farvi vedere questo che è il calendario della famiglia Comasca è un classicissimo faccelo vedere eccolo qua perfetto perfetto allora e volevo dire che oggi oggi è una giornata particolare perché oggi l'è Uldi di Scendar ecco il giorno delle ceneri ma perché si dice scenda scusa mi fa vedere scendare perché ceneri in dialetto si dice scendare ma è bello quello che c'è vicino al Uldi di Scendar e vicino c'è quel che è serum e quel che diventarem cioè quello che siamo che eravamo serum e quello che diventeremo cioè cenere poi l'ha segnato con la penna ha rovinato un calendario per noi praticamente perché ho pensato a Francesco grazie Ornella grazie non so come si dice in siciliano però ceneri sa che anche io non me lo ricordo adesso ci informiamo vabbè lasciamo perdere allora allora quindi oggi mercoledì delle ceneri dovremmo essere a digiuno però parliamo dell'acutizia quindi per ora ne parliamo perché non l'abbiamo fatta quindi non l'abbiamo aspetta un attimo Gloria che dice di saluta e dice di non perdere il dialetto dove trova il calendario chiede Lidia perché quello allora il calendario lo potete trovare andare alla sede della famiglia Comasca via Buonanomi via Buonanomi via Buonanomi 5 perfetto quindi Lidia lì c'è ancora il calendario anzi poi ci sarà una sorpresa finale quindi poi vediamo come fare la nostra amica Lidia dice Shura Ornella da Veneta mi chiedo spieghi cosa vuol dire strepenada scritto giusto io sono strepenada allora avete visto i miei capelli ecco in questo caso sono strepenada cioè sono spettinata spettinata ecco cosa vuol dire strepenada va bene ok belli i dialetti Riccardo da Venezia ciao tradizione da conservare ma noi lo facciamo Ricchi lo facciamo perché abbiamo trovato un genio del dialetto che è la nostra amica Ornella ma perché poi è simpatica voglio dire c'è modo e modo di parlare in dialetto Ornella tu porti anche tanta simpatia però adesso voi continuate a scriverci però adesso saluto anche Anna ciao Anna carissima e adesso parliamo della cutizza signori un attimo di pazienza perché la cutizza allora la cutizza era un dolce che dei poveri praticamente veniva fatto ai tempi indietro me lo faceva anche mia mamma mia mamma in realtà la cutizza me la faceva i cutizzit che erano piccole cutizzine piccole cutizze era un dolce fatto di niente fatto di farina di latte chi poteva poteva metterci le uova poi veniva fritto veniva fatta la pastella veniva fritto e poi sopra gli mettevi lo zucchero quindi poteva essere fatto con le mele mia mamma ci metteva le mele perché i miei figli piacevano con le mele oppure magari un po' di cioccolato un po' di cacao amaro dentro nella pastella e veniva fritto allora c'è una poesia che ha scritto Luciano Roncoroni che oltre ad essere poeta era un grande pittore della nostra città che vorrei leggere si chiama la cutizza L'olio dell'inusa è l'olio di semi di lino Ok, ok, ok perfetto Alipente modeste che faceva tutto contento adatta ogni giorno sia sciuri che puoi rit per un palato di grande piscinità dal Medioevo con il Sud prima anche mo' della pizza che tutti potevano preparare in casa con timpegno e cura e bella calda da digerire senza pagura insomma la merenda di tempi indre quando era minga né brioche né panettone salecava i dit e la sa mangiava in un bucone La società dei consumi l'annamona che ha scoprì se non adesso la sarebbe incardata con un nastrino e non un fileria di com a Portofino Un fileria è la pasticceria Pasticceria, ok, ok Esatto Eppure le fada di acqua sa e farina un zigdoli girata suzzura nel padelino un paro dei volt gustosa e tanta buona di fare suscita anche ai morti i comasveri invenghi grande a sta maniera dai paesani ai cittadini ignorante o intelligente una vera vitamina che custava poco o niente Com città di volta l'inventura della pila sa dischi anche lui in di momento in destizza alza calmava gustant una fetta di cutizza Oh anche anche Alessandro Volta bene poi ci saluta anche Lara e Riccardo che parla di una cosa semplice ma molto buona e lì assolutamente sono d'accordo Lidia che ti saluta e ti ringrazia per lo strepenada e Angela che poi ci riporta in Sicilia perché lei parla anche della Cuzzulla giusto Cuzzulla in Sicilia o Cuzzulla Cuzzulla pane fritto con sopra lo zucchero più o meno Ornella siamo lì a Semli giusto Ornella Semli Semvisin Semvisin brava esattamente va bene la cutizza allora una delle tradizioni veramente tantissime belle 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 poi ci saluta anche Marisa e poi Angela Yeye la cutizza e poi ancora Clara che dice che il calendario l'ha trovato anche in edicola e poi ci ha fatto una bottiglia anche per noi personalizzata di Ciocomo è una nostra amica e ci ringrazia grazie ciao Clara buongiorno ancora un saluto anche a Marisa buongiorno e grazie ancora beh Ornella che dirti vedi che alla gente piace il dialetto e speriamo di poterlo riportare ancora nelle case se ne parla sempre di meno speriamo di tenerla viva sta tradizione Ornella speriamo è un modo per non vuol dire non è ritornare al passato per amor del cielo è continuare quello che avevano fatto i nostri vecchi sì 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 è vero è vero proprio così è una tradizione e quindi continuare a parlare come loro diciamocelo francamente una volta il dialetto lo parlavano in casa i poveretti poi mia mamma mi diceva non si parla in dialetto bisogna parlare in italiano adesso si è riscoperto perché è guai il dialetto diventa una forma quasi di cultura cultura popolare è vero è vero è stato riconosciuto come cultura popolare quindi benissimo che bella sciura Ornella dice la nostra Angela i dialetti è un patrimonio da non perdere Riccardo d'accordissimo con te e noi cerchiamo appunto di non perderlo non solo il dialetto non solo la cutizza come ci ha spiegato questa mattina la nostra Ornella ma anche i modi di dire vero Ornella perché ce ne sono tantissimi e sul calendario della famiglia Comasca ci sono tantissimi modi di dire vero? è vero ci sono tantissimi li abbiamo visti anche la volta scorsa ma ci sono anche delle filastrocche esistono veramente delle cose che beh guarda mi è venuto in mente non era prevista ma c'è una filastrocca molto simpatica che è uno scioglilingua dopo ve lo traduco però è ticetatacatitac tamatacatitacami migudetacatitacatitac ticetatacatitac tacaititotac ticetatatacatitac sono scioglilingua vero e proprio è straordinario perché dice tu che attacchi i tacchi attacchi i tacchi a me io devo attaccare i tacchi a te che attacchi i tacchi ma attaccali tu i tuoi tacchi il dialetto non bisogna perderli dice anche l'amico Attilio perché sono la nostra cultura e poi ci sono questi bei modi di dire Ornella questi scioglilingua come ci hai detto tu le tradizioni popolari no appunto modi di dire lavori tanto 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 quindi un patrimonio bellissimo e cercheremo nelle prossime settimane ancora di di portarvi a casa qualcosa sempre di di diverso quindi i nostri amici cosa possono fare Ornella possono interagire con voi con te giusto? esatto allora possono mandare questa mail magari mettere il numero di telefono e perché no posso anche chiamarli possono scriverci se hanno qualche dubbio se vogliono sapere qualche cosa di particolare ma soprattutto voglio che ci teniamo in contatto in modo tale da vedere se loro hanno bisogno di qualcosa nel senso se hanno necessità di sapere qualcosa noi siamo a disposizione e allora scrivetelo scrivetelo sulla mail della famiglia Comasca giusto Ornella? giusto famigliacomasca chiocciolavirgilio.it e poi andate a visitare proprio la nostra pagina facebook perché sono riportati dialetti modi di dire dialetti si volevo dire proverbi modi di dire eccetera quindi è simpatica magari vengono messi dei giochi dei quiz cose di questo genere quindi andate a visitarla perché è proprio simpatica a proposito del modo di dire volevo dire che la prossima volta magari leggeremo un racconto scritto da una signora che fa parte della nostra sezione dialetto della famiglia Comasca che è stata anche come posso dire insegnava il dialetto nelle scuole quindi è più brava di me come si chiama come si chiama graziella molinari graziella perfetto mi colgo l'occasione anche per salutare un'altra componente della famiglia Comasca che è la sciura Rita che ci segue sempre la Rita è affezionata mi ha scritto anche l'altro giorno mi ha ringraziato che le ho fatto vedere la bella chiesa di Brienno ci segue sempre questa mattina ci segue quindi buongiorno la sciura Rita che noi ormai dobbiamo usare anche noi il dialetto quando parliamo con te Ornella quindi sciura il signore sciura ok perfetto molto bene quindi ci saluteremo così la nostra amica Clara dice che c'è anche un libro in dialetto che si chiama aspetta vediamo se lo dico giusto si chiama parla cumeta manget è giusto ho detto giusto manget o manget manget è scritto manget esatto parla cumeta manget era un libro che era stato pubblicato dalla provincia poi anche Maria ti saluta con tanti applausi e ovviamente ci associamo prima di chiudere cara Ornella che cosa volevi dire ai nostri gentili ascoltatori allora volevo dire che ho pensato di darvi un compito una specie di compito va bene il compito a casa della sciura il compito a casa della sciura Ornella attenzione vai mi dovete dire cosa significa la parola artichoc artichoc ok dovete scrivermi la risposta scrivere la risposta mandando una mail con il vostro nome e cognome le persone che hanno indovinato possono venire a ritirare il calendario in sede ah bene 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 allora quindi artichoc lo scrivete artichoc famigliacomasca chiocciola virgilio punto it lo mandate lì però senza usare internet perché sarebbe troppo facile comunque e allora vi danno il calendario ci saluta anche mi fa piacere l'amico con loro possono venire a ritirare il calendario in sede visto che ce l'hanno richiesto e noi siamo felici saluta anche l'amico Rocco buongiorno caro Rocco un saluto ciao Ornella dice e di dove sei originario mi chiede Lidia io sono originario di Como la provincia di Como perché non sembra anzi di Ronago di Ronago di Ronago sembri straniero va bene va bene perfetto allora bene abbiamo finito abbiamo finito dicevo tanti saluti a Ornella che è stata con noi quest'oggi con grande simpatia Ornella Shura Ornella buon dia ok allora sa vedo un 3 de marzo magari il 3 di marzo verrà anche qui direttamente in studio così sarà ancora più bello poterla incontrare Ornella grazie della simpatia buona giornata ciao